Ciao ragazzi, piccola integrazione al video di stamattina perché giustamente qualcuno si è risentito di un aspetto che non ho minimamente toccato e ve lo spiego ora su Pogba, sull'eventuale rescissione e poi ci sono alcune novità che sono uscite stamane quindi ne parliamo insieme in questo video prima di iniziare vi invito ovviamente a commentare dirmi la vostra opinione sotto nei commenti e anche criticare perché da una critica che prendo insomma lo spunto per questo video e lo analizziamo insieme quindi commentate e iscrivetevi al canale allora, slash lock a parte una critica secondo me insensata su un altro aspetto vabbè però, la critica che secondo me va nel segno è la seguente non conviene rescindere a prescindere il contratto di Pogba perché la Juve perderebbe i benefici del decreto crescita bastava questa info per smontare tutto il video non è assolutamente così la Juventus può ottenere benissimo la sospensiva dello stipendio senza sganciare un euro a Pogba aspetta la fine dell'anno, sono passati due anni rescinde il contratto, non perde alcun beneficio del decreto crescita perché deve essere minimo di due anni per cui questo è pagherebbe mi pare una cifra esigua rispetto a ciò che porterebbe la Juventus a tenere Pogba per altri due anni infatti la discussione è legata a questa qualora venga ridotta la sanzione a 6-7 mesi la Juventus, viste considerate le vicissitudini in casa Pogba tra la questione legata all'infortunio al menisco tra la sua disponibilità fisica tra questa roba qua del doping ha potere di sedersi con la pimenta e raggiungere un accordo qualora le cose vadano male secondo te la Juventus si tiene in contratto Pogba per altri due anni a fine squalifica eccetera e sgancia quanti milioni di euro lui prende mi pare intorno quasi agli 8-9 milioni mettiamo che col decreto crescita con gli sgravi fiscali arrivi a un 11-12 lordo altri 24 milioni fai bene i conti fai bene i conti perché questo è il discorso in caso di rescissione per cui la rescissione non è che l'ho tirata fuori io è una roba che esiste quando dico che io andrei a rescindere il contratto è perché viste considerati i due anni tribolati aspetterei la fine del secondo anno con la sospensiva e arrivederci e grazie fine tutto qua e credo che questa roba sia condivisa da tutti poi stai diventando uno di quei giornalisti che pur di parlare di qualcosa per fare i numeri tutti quelli che stanno su questa cazzo di piattaforma cercano i numeri tutti dal primo all'ultimo nessuno compreso chi vi dice che non ha numeri è gente e chi dice non li cerco i numeri io faccio i video e dico quello che penso no in realtà la riprova sociale è quello che stimola continua anche in un certo senso a portarci a fare dei video non solo il piacere di farli poi uno li può fare per il piacere di farli senza avere dei risultati magari e ci sta perché io all'inizio ero così però la continuità poi mi ha premiato ma il fatto che c'è gente che dica ah non lo faccio per i numeri sono stronzate tutti cercano i numeri non credo che uno youtuber che faccia pochi numeri sputerebbe su un video in cui fa numeri per cui tutti dal momento in cui si mettono in gioco cercano comunque anche quell'obiettivo là non prendiamoci in giro basta con questa cazzo di ipocrisia poi diciamo per non parlare del clickbait clickbait è una pratica che è spesso diffusa su certi blog in genere che vengono sponsorizzati in una certa maniera con native advertising si fa arbitraggio è una pratica che viene fatta ovvero si guadagna dalle inserzioni interne per cui io acquisisco traffico a un costo inferiore rispetto a quello che è il guadagno che ricaverei dai click all'interno di una certa pagina web per cui titoli fuorvianti senza contenuto i miei video in questo caso quello di stamattina non vi ho detto tutto è chiaro vi porto a cliccare a guardarvi il video per capire esattamente quello che devo dire ma il contenuto è strettamente correlato a quello che è il titolo per cui non è questo il clickbait clickbait è io faccio un titolo poi entri dentro e trovo una marea di stronzate che non sono ah rissa clamorosa qua e là come capita di vedere certi shorts eccetera e poi non c'è il contenuto per cui io ho apprezzato la critica iniziale la seconda la trovo pretestuosa forche anche insensata perdonami detto ciò comunque vi ringrazio per la partecipazione e altre cose che volevo che volevo dirvi legate alle notizie di oggi a livello media è uscita la notizia Gatti potrebbe prendere 3 milioni di euro ora con Gatti non abbiamo alcun decreto crescita per cui il lordo andiamo a pagare quasi il doppio forse quella cifra di 6 milioni mi pare un tantino esagerata questa roba a me hanno indicato come cifra poi vedremo nel bilancio eccetera nelle variazioni eccetera che il suo stipendio dovrebbe essere tra l'uno e mezzo barra due netti a stagione questo è quello che che mi è stato detto contratto fino al 2028 quindi 5 anni di contratto per per Gatti e io credo che sia una cifra corretta in questo momento i titolari Alessandro morto un mese e mezzo fuori e vi dirò a me dispiace quando non si infortuna però almeno non abbiamo lo spauracchio che entra in campo ecco questa è la cosa che dico perché io ripeto ci fosse stata una società che l'anno scorso insomma si concentrava anche un po' sul calcio e sulla questione progettuale sportiva eccetera prendeva Allegri lo attaccava al muro gli diceva tutte quelle presenze che fanno scattare il rinnovo automatico non io le fai fare punto molto molto facile questo succede nelle società serie purtroppo l'anno scorso siamo stati in balia di altri eventi extracampo che ci hanno portato a focalizzarci su quell'aspetto là Allegri ha fatto le sue scelte e ne paghiamo le conseguenze anche in questo senso per cui la colpa non è di Allegri la colpa è della società che è mancata su un aspetto puramente economico e puramente progettuale che non spetta l'Allegri Allegri ha quegli uomini non gli è stato detto un cacchio giustamente fa giocare Alexandro se lo ritieni opportuno fine ecco questo è detto ciò De Sciglio lo si rivede non lo so ragazzi anche De Sciglio lo trovo un rinnovo insensato rispetto anche al discorso di prima di Alexandro Gatti lo trovo invece un rinnovo che ci può stare a quelle cifre poi non dobbiamo fare gli errori che abbiamo fatto con Rugani e altri che adesso Rugani potrebbe rinnovare ma a metà del prezzo però si è puppato una marea di denari in maniera ingiustificata non valeva minimamente quel tipo di ingaggio per il ruolo che aveva in Rose non dobbiamo più ricadere nei certi errori la cosa che mi fa ben sperare è che in questo momento c'è un'attenzione particolare ai conti stessi e c'è comunque Giuntoli che cercherà di sedare eventualmente la fuga e lo sperpero di denari questa è l'unica cosa che mi fa stare un pelo tranquillo comunque detto ciò io ringrazio ovviamente Slash per la sua critica il punto è quando si parte per la tangente così anche meno mettiamoci in discussione ma anche meno stai diventando come quei giornalisti che pur di parlare di qualcosa no a me pareva un argomento di grande rilevanza e ve l'ho portato e credo che la grande partecipazione da parte di tutti è il numero e la percentuale di like che è altissima in quel video andiamo oltre il 98,5% la dica lunga sul fatto che quello sia stato un video gradito poi ci sta che non sia stato di tuo gradimento ma nella critica dire che io stia diventato non so cosa la trovo veramente una critica sterile sterile senza argomentazioni tutto qua detto ciò eventualmente Slash sei libero di venire anche sul canale Telegram e di parlarne direttamente con me e ti spiegherò tutte le mie ragioni e tutte le altre cose c'è grande sempre disponibilità vi mando un forte abbraccio ragazzi e nulla ci vediamo sicuramente domani mattina con un altro video vi ricordo che domani alle 11 parlerà anche Allegri per cui ci sarà il video post conferenza o magari domani mattina sapete che c'è c'è che non faccio nulla di prima mattina appena esce la conferenza vi faccio il video post conferenza potrebbe essere un'idea ciao belli e sempre fino alla fine forza Juve